Ansel e Gretel, i due fratellini e la strega cattiva. Oggi una delle fiabe più famose di sempre, tratta dai libri dei fratelli Grimm. C'era una volta un taglialegna molto povero che abitava davanti a un gran bosco, insieme ai suoi due figli e alla sua seconda moglie. Il bambino si chiamava Ansel e la bambina Gretel. Il taglialegna aveva sempre vissuto del suo lavoro, ma una grande carestia aveva ridotto di molto gli ordini, per cui adesso anche lui era quasi sul punto di non potersi più procurare il pane da mettere in tavola ogni giorno. Una sera, in cui non riusciva a dormire sia per i pensieri e sia per la fame, disse alla moglie Ma la donna, che era molto cattiva e che, come abbiamo detto, era la seconda moglie del taglialegna e quindi non era la madre di Ansel e Gretel, gli rispose subito Oh, marito mio, ma la soluzione è molto semplice. Domani mattina condurremo nel più folto del bosco i due bambini, poi noi ce ne andiamo al lavoro e li lasciamo lì. I bambini da soli non riusciranno mai a tornare a casa e così ci saremo sbarazzati di due bocche inutili da sfamare. Ma, moglie mia, ma come è possibile? Come potrei avere il coraggio di lasciare i miei figli soli nel bosco? Le bestie feroci verrebbero subito a sbranarli. Come faranno? In un modo o nell'altro se la caveranno. Magari troveranno anche una famiglia migliore della nostra e intanto noi ci toglieremo un grande peso. Discussero ancora per un bel po' e alla fine l'uomo, che era sempre stato succube della sua seconda moglie, accettò l'idea di abbandonare i bambini. Però anche i due bambini che avevano la stanza vicina quella notte non erano riusciti a dormire per la fame e così avevano sentito attraverso la sottile parete di legno quasi tutto il discorso. Cretel si mise subito a piangere, ma Ansel la consolò. Non ti preoccupare, sorellina, vedrai, ci penserò io. E così nel cuore della notte, quando il padre e la matrigna ormai dormivano, Ansel si alzò e uscì fuori. C'era una bella luna e lui raccolse tanti sassolini bianchi davanti e intorno alla casa. Ne fece una bella scorta e poi tornò a letto. Al mattino, molto presto, la matrigna andò a svegliare i due bambini. Alzatevi poltroni! Dobbiamo andare nel bosco a lavorare! E poi diede a ognuno di loro un pezzo di pane e una mela. Ma non ingozzatevi, eh? Questo è il vostro cibo per tutto il giorno. E poi tutti e quattro si incamminarono verso il bosco. La matrigna vide che ogni tanto Ansel si fermava e si voltava indietro. Che cosa stai facendo, sciocco? Niente, niente, mamma. Io, io mi sembrava di aver visto un gattino bianco. Ah, come sei sciocco, gli dispose la matrigna. Non c'è nessun gatto. Al massimo sarà un riflesso del sole. Cammina su. Ma Ansel in realtà non guardava nessun gatto. Semplicemente stava buttando a poco poco sulla strada i sassolini bianchi che aveva raccolto la notte prima. Quando furono nel folto del bosco, il padre disse, Bambini, raccogliete dei rami. Voglio accendere un fuoco, perché voi ci dovrete aspettare qui e non voglio che abbiate freddo. Così si accese il fuoco e la matrigna disse, Adesso state qui, bambini, noi ce ne andiamo a lavorare. Torneremo a prendervi più tardi. E così Ansel e Gretel rimasero tutto il giorno vicino al fuoco. Mangiarono il loro pane, la loro mela, si riposarono, dormirono, giocarono e fecero tutto quello che normalmente fanno i bambini. Ma alla fine arrivò la notte e i genitori naturalmente non erano ancora tornati. Gretel era molto preoccupata, ma Ansel la consolò. Stai tranquilla, sorellina. Dobbiamo solo aspettare che sorga la luna e poi anche noi torneremo a casa. E infatti, quando la luna fu ben alta nel cielo, illuminò tutti i sassolini bianchi che Ansel aveva lasciato. E così, verso l'alba, i due fratellini arrivarono a casa. Bussarono alla porta e venne ad aprire la loro matrigna. Fu molto stupita e anche arrabbiata, ma lì per lì non poteva fare a meno di fargli entrare. Nella notte la matrigna disse al marito, Non so come hanno fatto a tornare quei due maledetti mocciosi. Domani faremo fare loro un lungo giro in modo che si perdano e non riescano più a tornare. Ma moglie mia, ma è possibile che... Zitto! Non c'è nessun'altra soluzione! Di nuovo però i due bambini avevano sentito. E allora di nuovo Ansel uscì alla ricerca dei sassolini bianchi. Ma li aveva già presi tutti la notte precedente, per cui non ne trovò nessuno. Al mattino partirono molto presto e tutti e quattro si incamminarono per il bosco. La matrigna ancora non capiva come i due bambini avessero fatto per ritornare a casa, per cui ogni tanto sbirciava che cosa stessero facendo. Gretel non faceva nulla, ma di nuovo Ansel ogni tanto sembrava girarsi indietro. Cosa fai, brutto stupido? Cammina! Ma mi sembrava di aver visto delle colombe bianche volare nel bosco. Ma che colombe? Al massimo sarà un riflesso del sole. Cammina, cammina! Ansel, non avendo le pietroline, stava spargendo delle piccole mollicchie di pane sulla strada. La giornata passò come quella precedente, e quando venne la notte i due bambini si misero in cammino per tornare a casa. Ma purtroppo gli uccellini, gli scoiattoli e tutti i piccoli animali del bosco avevano mangiato le mollicchie di pane, per cui loro camminarono, camminarono, ma alla fine si persero. Si sdraiarono sotto un albero e si addormentarono. Girarono per il bosco per un bel po'. E il terzo giorno a mezzogiorno, quando già stavano morendo di fame perché non avevano trovato che qualche bacca, sembrò loro di vedere in lontananza una casetta. Allora andarono in quella direzione, e quando furono vicini, videro che sì, effettivamente c'era una casetta, ma era fatta di pane e coperta di focaccia, e le finestre erano di zucchero, i davanzali erano ciambelle, e ogni cosa di quella casa era fatta di qualche cosa buona da mangiare. I due bambini avevano così fame che non ci pensarono su due volte, e subito cominciarono il loro pasto. Dopo un po' si aprì la porta, che era fatta di cioccolato, e venne fuori una vecchina decrepita, curva, con dei grossi occhiali sul naso, e che si appoggiava a un bastone per camminare. Hansel e Gretel si bloccarono spaventati, ma la vecchina strizzò gli occhi per guardarli meglio, e disse, Ah, cari bambini, che piacere vedervi, entrate, entrate, questa casetta è fatta apposta per dare gioia a tutti i bambini. Li prese per mano e li condusse dentro, e allora preparò una buonissima cena, con latte, frittelle, mele, noci, e poi li accompagnò in una stanza bellissima, tutta pulita, dove c'erano due bei lettini bianchi, e allora Hansel e Gretel si coricarono finalmente, stanchi come erano, e credettero di essere in paradiso. La vecchina, però, faceva soltanto finta di essere buona. In realtà era una strega cattivissima, che certo aveva costruito quella casetta di pane, focaccia e dolci per i bambini, ma perché voleva attirarli e poi farli cuocere e mangiarli, e così nella notte, quando i due bambini dormivano della grossa, prese Hansel con le sue mani rinsecchite, e prima che lui riuscisse a fare qualunque cosa, lo chiusa in una gabbia, da cui non c'era modo di uscire senza avere la chiave. Poi andò da Gretel, la svegliò con uno scossone, e le diede uno schiaffo. «Alzati, alzati, maledetta dormigliona! Vai a prendere l'acqua e cucina qualcosa di buono per il tuo fratello. Io l'ho messo in gabbia, e là deve rimanere e deve ingrassare. Quando sarà grasso, me lo mancerò, e poi sarà il tuo turno!» Gretel si mise a piangere, cercò di scappare, fece di tutto, ma niente. Un incantesimo le impediva di allontanarsi dalla casetta, e così era costretta a aiutare la strega a cucinare i cibi più squisiti, che poi portavano Ansel nella gabbia, e lei in cambio non riceveva che gusci di noci. Ogni mattina la vecchia strega andava fino alla gabbia. «Ansel, tira fuori un dito, così io vedrò se sei ingrassato!» Ma Ansel era furbo, per cui non le sporgeva un dito, «Ma un rametto!» E la vecchia strega, che ci vedeva molto poco, non capiva che era soltanto un rametto, e non si spiegava la ragione per cui il bambino non ingrassasse, nonostante tutto quello che gli davano da mangiare. Dopo un mese, però, visto che Ansel era sempre magro, o almeno così credeva lei, perse la pazienza e non volle più aspettare. «Ah, è passato troppo tempo! Anche se sei magro ti mangerò!» «Gretel, porta l'acqua svelta! Lo faremo bollire come un cappone, così anche se è magro, ricaveremo una buona minestra!» «Ma prima bisogna preparare il pane!» «Io ho già scaldato il forno e impastato!» «Gretel, controlla che il forno sia bello caldo!» L'intenzione della vecchia strega era di mangiare tutti e due insieme, e voleva spingere Gretel dentro il forno, mentre lei lo controllava. Ma Gretel non era per niente stupida, e allora finse di mettersi a piangere. «Ma io non ci entro nel forno, la porta è troppo piccola!» «Mh, stupida oca! Non è affatto troppo piccola! Guarda, potrei entrarci anche io!» E la strega mise la testa nel forno per far vedere a Gretel che ci poteva entrare benissimo. Ma la bambina allora prese la rincorsa e diede alla strega un grande spintone, tanto che la strega finì completamente dentro il forno. Allora Gretel chiuse lo sportello di ferro e tirò il catenaccio. Poi la bambina corse a prendere la chiave della gabbia e liberò il fratello. Ansel saltò fuori come un uccello finalmente libero. Si saltarono al collo, si baciarono e fecero capriole per la gioia. E siccome ormai non avevano più nulla da temere, si impossessarono di tutti i tesori della strega. Dappertutto c'erano forzieri pieni di perle, pietre preziose, dobloni d'oro, ne presero più che potevano, fecero anche scorta di cibo e se ne andarono. In realtà però ancora non sapevano che strada fare per tornare a casa. Dopo aver camminato per un po', arrivarono a un grande fiume. Non c'era modo di attraversarlo, ma videro una grande anatra bianca. Ansel provò a parlarle. Anatra, anatra, per favore, aiutaci ad attraversare il fiume. E l'anatra allora si avvicinò alla riva. I due bambini, uno a uno, salirono sul suo dorso e furono trasportati dall'altra parte. Allora anche Gretel parlò all'anatra. Anatra, anatra, tu che voli così in alto, potresti indicarci la via per tornare a casa? E allora l'anatra si alzò in volo e indicò loro la direzione da prendere. Dopo molto camminare, il bosco divenne loro sempre più familiare e alla fine videro da lontano la loro casa. Allora si misero a correre gridando papà, papà. Il taglialegna uscì sulla soglia e gli vennero le lacrime agli occhi per la gioia nel vedere i suoi due bambini. Lui non aveva più avuto un'ora felice da quando li aveva abbandonati nel bosco. Anzi, era andato diverse volte a cercarli, ma senza alcun risultato. Rendendosi conto di quello che aveva fatto, aveva scacciato quella donna cattiva che aveva preso per moglie, anche se ormai pensava che il male era fatto e che non ci fosse più nessun rimedio. Anse e le Gretel rovesciarono per terra tutto il tesoro che avevano portato e poi raccontarono la loro avventura al padre. Da quel momento vissero insieme felici e contenti. Vi è piaciuta questa storia? Seguiteci! Favole, fiabe, storie per bambini, nuove e antiche, sempre diverse. A presto!